Ed eccoci ritornati in diretta, dunque come abbiamo ascoltato dal Santo del Giorno, la rubrica curata da Fra Italo Sant'Agostino. Oggi la Chiesa pone alla nostra attenzione uno dei più grandi Santi della storia della Chiesa, San Giacomo, uno degli Apostoli. E dunque a proposito della vita di San Giacomo abbiamo anche ascoltato nella biografia che le sue reliquie riposano nel santuario di Santiago de Compostela che è celeberrimo per il cammino appunto che porta proprio a questo santuario. Un cammino che affonda le proprie radici davvero nei secoli, che ha visto milioni di persone calcare quelle strade che appunto poi portano a quel santuario così bello, così speciale. Questa mattina noi abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Don Francesco Misceo che è della Diocesi di Bari e delegato per la pastorale universitaria che è in cammino proprio. E allora vogliamo salutarlo e ringraziarlo insieme ai pellegrini che sono con lui per la sua disponibilità. Li abbiamo interrotti nel cammino appunto proprio per farci spiegare il senso e il significato di questo camminare, di questo che è un pellegrinaggio vero e proprio. Buongiorno, bentrovati, buon cammino. Grazie, grazie. E buona festa di San Giacomo a tutti. Don Francesco, allora se riesci puoi anche mettere il telefono in orizzontale in maniera che riusciamo ad inquadrare anche tutti i tuoi ospiti, tutti i tuoi compagni di cammino. E allora partiamo proprio dalle ragioni che vi muovono nel camminare, nell'affrontare davvero questi chilometri difficili per arrivare ad una meta sognata, agognata. Le motivazioni sono tante quanti sono i pellegrini, perché è vero che andiamo tutti sulla tomba di San Giacomo, perché abbiamo intuito che Giacomo è uno che ha capito il senso della vita, ha capito che nella vita ci vuole un grande motivo per poter dare tutto se stessi e ognuno cerca il suo motivo e per questo stiamo camminando. Io sono adesso, in questo momento tra l'altro sta anche leggermente piovendo, proprio una nebbiolina fitta fitta, che è quasi un manto di protezione, perché ieri abbiamo sofferto un caldo infernale. Comunque ci siamo, giorno per giorno, passo dopo passo stiamo camminando e un chilometro dopo l'altro ci avviciniamo alla meta. Voi dove siete ora, Don Francesco, di preciso? Non ho capito. Dove siete? In questo momento abbiamo lasciato Barcelos, stiamo sul cammino portoghese, contiamo di arrivare a Santiago entro una decina di giorni, sempre gambe permettendo, ma qui i programmi non si possono fare tanto lunghi, bisogna farli alla giornata, se non all'ora o al minuto a volte. Sì, in effetti, perché frequentando un po' i social il trend cammino di Santiago è uno dei più gettonati e quello che ho imparato a capire è che davvero l'imprevisto è dietro l'angolo, basta anche un laccio di scarpa che salta via, che rovina il programma di una giornata. Dico bene, ora ovviamente per voi la pioggia è benedizione, però per qualcuno potrebbe anche essere imprevisto. Eh beh, io non lo so se qualcuno di voi vuole raccontare un imprevisto personale, potremmo stare qui. Abbiamo sbagliato strada, i fuori pista che ci sono. A volte, sai, qui ci sono le frecce gialle, i segni, ma a volte uno pensa di sapere le cose meglio di chi le ha preparate prima. Il rischio è quello di incorrere in dei fuori pista ed è molto, molto, molto lunghi e dolorosi e difficili da affrontare. Senti, Don Francesco, quali motivazioni, chilometro dopo chilometro, acido lattico che si accumula nelle gambe, aiutano te e i tuoi compagni di viaggio verso questo santuario, questa mole che poi si staglia e che fa dire finalmente ce l'ho fatta? Camminare insieme è una benedizione perché si sincronizza il passo a quello di chi ti è accanto e quando tu pensi di non farcela trovi nella compagnia il nutrimento e l'energia. Questo è uno dei grandi segreti del cammino che poi ti consegna per la vita, che nessuno può camminare da solo e nessuno si salva da solo. Abbiamo noi quello che serve alla vita degli altri e qualcun altro ha qualche cosa che serve alla nostra, ma se non viviamo in una dimensione di condivisione non lo scopriremo mai. Nel cammino si portano gioie, speranze, ma anche tante sofferenze. Allora vorrei chiedere a qualcuno dei tuoi compagni di viaggio che cosa porta, oltre ai generi di prima necessità nello zaino, dal punto di vista anche personale, anche spirituale, semmai? Un bastone, dal punto di vista spirituale. C'è chi cammina con un dolore nel cuore, chi cammina per qualcuno che non lo può fare in questo momento, c'è chi cammina perché ha perso una persona cara, c'è chi cammina per una bambina che è nata da poco e che ancora non ha imparato a camminare. Abbiamo incontrato un pellegrino che si chiama Roberto Antonio, che ci ha detto chiaramente che non si cammina mai per se stessi, si cammina sempre per qualcun altro, che non può fare il cammino in questo momento. Questo è il segreto, ognuno ha qualcuno per cui cammina. Che bello, se riusciamo a sentire qualche voce. Crea uno spirito di corpo nel gruppo, noi eravamo tutti quanti, nessuno di noi ci conoscevamo, ma poi si crea uno spirito di corpo che è eccezionale. Io sono tornato indietro all'età del militare, la mattina quando si deve svegliare alle 5, con Don Francesco che ti spinge ad andare avanti. Sono il più anziano e il più grande di questo gruppo, il più giovane appena a 19 anni. Comunque ce la faremo, conquisteremo Giacomo. Che bello. Che poi è vero, c'è anche il passaporto, no Don Francesco? Non so se c'è ancora, sì, dove ogni tappa c'è il bollino che viene... Si, si mette il timbro sulla credenzial, perché come pellegrini noi possiamo accedere a dei servizi, a dei luoghi che non sono invece aperti al turismo ufficiale, al turismo quello diciamo più consumistico. E la credenziale è quel documento che tu porti con te e registra attraverso i timbri tutto il cammino che hai fatto. Bene. Poi volevo anche chiederti, tu sei con i ragazzi dell'università, giusto Don Francesco? Sì, io mi occupo della pastorale dell'università. Infatti questo gruppo è stato messo insieme proprio nella cappella dell'Ateneo di Bari e ci sono studenti di diverse facoltà, c'è personale amministrativo come Francesco che ha parlato poco fa, ci sono amici dell'università. È nato quasi per gioco ed è diventato un sogno comune e adesso lo stiamo vivendo. Che bello, che bello, davvero contento per questo vostro coraggio. Voi siete in piedi da che ora, Don Francesco? Stamattina, sinceramente, io mi sono svegliato alle 5.90 perché avevamo dei panini da preparare, così strada facendo abbiamo di che rifocillarci. Però stiamo camminando dalle 6. Ricordando che rispetto all'Italia voi siete un'ora indietro. Quindi abbiamo un'ora indietro di diffuso orario. E allora, Don Francesco, io ti ringrazio davvero di cuore per averci condiviso un po' le emozioni del vostro cammino mentre auguro a te e a tutti i tuoi compagni di viaggio davvero un cammino fecondo e che possa essere davvero foriero di tante cose belle che davvero nella nostra vita ce n'è bisogno. Auguri, buon cammino. E poi appena arrivati a Santiago ti chiedo di inviarci qualche foto così la condividiamo magari. Va bene, va benissimo. E come si dice sul cammino Ultreia Isuseia sempre oltre e sempre più in alto. Sempre più avanti e sempre più in alto. Grazie, grazie di cuore. Grazie, buon cammino ragazzi. Buon cammino. Buon cammino. Viva l'Università degli Studi di Bari questa eccellenza della nostra Italia. Davvero grazie di cuore a Don Francesco. Ora ci fermiamo per la pubblicità e poi fra qualche istante facciamo un salto indietro nel tempo precisamente al 1989 perché quello è un anno fondamentale per le giornate mondiali della gioventù si è tenuta proprio a Santiago de Compostela e Papa Giovanni Paolo II ha indossato l'uniforme del pellegrino e ha partecipato insieme a milioni di giovani proprio nel nome di San Giacomo. Pubblicità e poi clip.